Buongiorno a tutti I telespettatori di mattino 6 La nostra consueta rassegna stampa Che andremo a prendere A leggere le prime pagine Dei quotidiani regionali Poi le prime pagine dei quotidiani nazionali E poi con la lettura Delle pagine sportive E nella seconda parte Andiamo a leggere le pagine Interne dei quotidiani regionali Perciò vogliamo dare subito inizio Alle prime pagine dei quotidiani regionali Con la lettura del centro di Pescara Che ha come titolo di apertura La partita di ieri sera Pescara spettacolo Trisse fuga Mancuso e Monachello Stendono lo spezia I biancazzurri sognano Poi vediamo anche infatti La foto riportata qui Nel titolo di apertura Poi nell'articolo di Spalla Si parla del Pescara Fusione dei comuni Nuova Pescara C'è il via libera Dei tre consigli Spostiamo nel taglio medio Vediamo a Francavilla Operario minaccia di lanciarsi Dal comune Dice che è salito sul tetto Del comune di Francavilla E li ha minacciato Di buttarsi di sotto Poi Montesilvano Lotta agli incivili Con Whatsapp Cittadini Sentinelle Legionella Vietata l'acqua dello stadio A Pescara Ordinanza del sindaco A scopo precauzionale Dopo le analisi Dell'Arta Vediamo anche Un altro articolo di Spalla Finale con la Serbia E con uscò L'Ital Volley Oggi si gioca il mondiale Invece nel taglio alto Scintille tra Salvini e Di Maio Prima crepe nel governo Strade dei parchi Entro ottobre Traffigo limitato Su A24 e A25 Adesso ci vogliamo spostare Alla prima pagina Sempre del centro Questa volta Della provincia di Chiedi Anche delle zone di Lanciano E Vasto Caos feste Salta un altro evento A Chiedi annullata L'iniziativa sul trekking Il sindaco Al Natale ci penso io Vediamo nel taglio medio La foto Di copertina A Lanciano Il reparto di ottoiatria Unico centro in Abruzzo A Renzetti Cure dentale A disabili E pazienti a rischio Nel articolo di Spalla Di sinistra Sempre a Lanciano Cratera al Corso I palazzi hanno rischiato Il crollo Vasto Centro storico Un altro negchiozio Chiude l'attività Spostiamo nella parte Bassa Il quotidiano Il centro di Pescara Sempre a Chiedi Parcheggi Parcheggi Megalò Tra dieci giorni Via ai pagamenti A Vasto Apre la cassa Benzinaio Rapinato Rai dall'alba All'agip Di contrada Buonanotte Bandito in fuga Con 600 euro Vogliamo Spostarci adesso Sul centro Questa volta Della provincia Di Teramo Titolo di apertura Sesso con una dodicenne Condannato Teramo Tre anni e sei mesi A un istruttore sportivo Lei era la sua allieva Nel articolo di Spalla Sempre a Teramo Sgomberati In cui linee abusivi Da due case Ater Nella foto Di centropagina I 50 anni Del rapporto Teramo Burundi Veglia in cantedrale Per celebrare La missione In Africa Nell'articolo Di Spalla Di sinistra A Roseto In municipio Sono necessarie 17 assunzioni Dice questo L'obiettivo Del vice sindaco Assessore con delega Al personale Giulia Nuova Nuova caserma L'appalto Slitta ancora Ad Atri Avvocato Di 43 anni Muore di infarto Lorenzo Literio Era a passeggio Con il cane Lascia moglie E due figli piccoli Vogliamo Adesso Andare a leggere La prima pagina Del quotidiano Sempre il centro Questa volta Della provincia Dell'Aquila E delle zone Anche di Avezzano E sul Mona Intex Impugnati I licenziamenti L'Aquila Ricorso Di 7 ex Ricercatori Già riserciti Per mobbing Nella foto Riportata Nel centro pagina L'Aquila Protezione civile In campo Finta scossa Fa scattare La maxi Esercitazione Qui vediamo Nella foto Dei finti feriti A terra Durante i soccorsi Simulati Dell'esercitazione Della protezione civile Avezzano Ecco i contratti Di solidarietà All'Elefondri E sindacato Dice trovano L'intesa Per gestire 18 mesi Con il lavoro Ridotto Sul Mona Pasti preparati A casa Le scuole Dettano Le regole Vogliamo Spostarci Nella Taglio Basso Inchiesta Celano Picone Si butta Solo fango Sul comune All'Aquila Aria Disaggiate Più soldi Per i cantieri L'ufficio Speciale Per la ricostruzione I contributi Sono legittimi Adesso Abbiamo concluso Con le prime Pagine Dei quotidiani Regionali Del centro Ci spostiamo Alla prima pagina Del quotidiano Regionale Del messaggero Dell'Abruzzo Il titolo Di apertura Strada Parchi Sfida Il ministro A 24 E a 25 E' chiesto L'accesso Agli atti Per sapere Dove sono finite Le prove tecniche Limitazioni Del traffico Pesante Aggiorni Le ordinanze Per scagionare Il passaggio Dei camion Poi Vediamo Verso il voto Legnini In campo Se parliamo Agli elettori Vediamo Nel centro pagina La foto Del Partita Di ieri sera Del Delfino Del Pescara Il delfino Sempre più al comando E spugnata La spezia E' proprio Un grande Pescara Dopo l'evasione Il titolo Di spalla Prenda pugni Passanti Agenti Un altro episodio Di follia Giovane Violento Sottratto Al linciaggio Chiedi Ruba Il megalò Ad appena 13 anni Passiamo adesso Alla prima pagina Del quotidiano La città Della provincia Di Teramo Asle Titolo di apertura Risolto il caso Dei 191 precari Contratti prolungati Fino alla fine Dell'anno Nel 2019 Si vedrà Con concorsi E stabilizzazioni Nel titolo Del taglio alto Il progetto Della superstrada Quarto lotto A quattro corsie Bello Ma impossibile Nel taglio meglio C'è la foto Ateneo Tra dieci giorni Terminerà L'era del rettore D'Amico Ultime pergamene Nel titolo Di spalla Sinistra Elezioni provinciali Endorsement PD Ad Alonso Ginobliani In prima fila Taglio Taglio sempre medio Suicida Dopo il suicidio Suicidio del fratello Donna di 37 anni Si lascia cadere Dalla manzarda Teramo Il caso Verna Non scuote Il PD Tornerà Formazione E sicurezza Sull'articolo Di spalla Del lato destro Meno incidenti Sul lavoro Grazie alla formazione Di EFSE E INAIL Violenza Su minore Condannato L'istruttore Della palestra Abbiamo adesso Terminato Le prime pagine Dei quotidiani Regionali Passiamo adesso Alle prime pagine Dei quotidiani Nazionali Con la lettura Della prima pagina Del quotidiano Il Corriere della Sera Titolo di apertura Modi De classa L'Italia Manovra Ritenuti Meno affidabili Deficit Più alto E si fa poco Per la crescita Fiammata Dello spread Lega Il Movimento 5 Stelle Ancora parole dure Tra i leader Ma si cerca L'intesa Sui condoni Vediamo Costarci Il taglio medio Mondiale Pallavolo Oggi alle ore 12.40 La finale Con la Serbia L'Italia festeggia Dopo la sofferta Vittoria Al tie break Con la Cina Nella semifinale Del mondiale Femminile In Giappone Vogliamo Spostarci Alla prima pagina Del quotidiano La Repubblica Italia De classata Capitale In fuga L'Italia Lega Movimento 5 Stelle Cambia il condono Manovra Modding A base Rating MBT Sale La sfiducia All'estero Salta Norma Prociciclatori Vogliamo Adesso Spostarci Sulla prima pagina Del quotidiano Di Libero Grillini Allo sbando Vediamo La festa Del condono Sarà un bel Funerale Ira Salvini Il governo Regge Ma non passo Per scemo Al consiglio Dei ministri Conte Leggeva E Di Maglio Scriveva Gigino Non sono bugiardo Né distratto È iniziata La crisi Di Lagnerà Movimento 5 Stelle Modding Abbassa I rating Dell'Italia Troppo deficit Lo stiamo Nel taglio Medio Vediamo Alla Leopolda Di Renzi Le prove tecniche Di resurrezione Vogliamo Adesso andare Alla prima pagina Del fatto Quotidiano Intervista A Conte Sul condono Ora si azzera Tutto Vale solo Il contratto In consiglio Dei ministri La norma Era in bianco Ma oggi Si decide Neanche i leghisti Hanno mai chiesto Favori Per i grandi Evasori Nel taglio Alto Vediamo Milano Nuova terra Dei fuochi 19 incendi Di rifiuti In 10 mesi Sempre sul Quotidiano Di libero Si parla Sempre Della Maxi Sanatoria Rissa Salvini Di Maio Ma la lega Retra Il colpo Di spugna Sparirà Vogliamo Adesso Leggere La prima pagina Del quotidiano Il tempo Titolo di apertura I sorci giallo Verdi Lite furiosa Sul condono Salvini Non sono Scemo Di Maio Neio bugiardo Sicurezza Grandi opere Fisco Assicurazioni Ora Ogni provvedimento È a rischio Arriva La bocciatura Della finanza Modis De classe Rating Dell'Italia Nel Titolo Di spalla Resistenza Ogni Forbiciata Vitalizi Multi Ecco l'elenco Dei paperoni Nel Centropagina Fazio Santifiche Il sindaco Di Riace Vogliamo Vedere adesso Nel taglio Abbasso Del quotidiano Il tempo Soldati Poco pacifisti E il governo Censura Il film Palazzo Chigi Stop Il video Celebrativo Della difesa Il motivo I militari Nelle immagini Sono troppo Guerrieri Vogliamo adesso Vedere la prima Pagina Del messaggero Però questa volta Del quotidiano Nazionale Manovra Modis De classe L'Italia L'agenzia USA Taglia Rating Abba Tre Con Hot Stabile Per il cambio Di strategia Sul deficit Manca Una coerente Agenda Di riforme Per la crescita Palazzo Chigi Tutto come Previsto Oggi Il consiglio Dei ministri Con le correzioni Al decreto Fiscale Governo Verso Un mini Condono In crisi Lasse Tra Salvini E Di Maio Nell'intervista Il capo Della Lega Basta sceneggiate Luigi Sapeva tutto Nel centropagina Si parla Dell'Italia Del volley Che batte la Cina E vola in sì finale Con la Serbia Paola e le altre Sognano Sogno mondiale 16 anni dopo Statali Nel ticolo di spalle Nuove assunzioni Troverò le risorse Intervista Il ministro Buongiorno Lotta All'assenteismo Anche un canale Youtube Il processo Nel taglio basso Alla sindaca La poliziotta Il caso Raggi Nomine Decideva Marra Abbiamo concluso Con la pagina Del messaggero Vogliamo adesso Vedere La prima pagina Del quotidiano Nazionale Il giornale Articolo di apertura Ricatti Incrociati Governo Spaccato Condono del nord E contro il condono Del sud Attacchi Smentite Tra ministri Ma alla fine Sarà Salvini A cedere Spread A quadra 340 Mobid Declassa L'Italia Berlusconi Siamo a un passo Dalla deriva Autoritaria Nel centro pagina Vediamo Nella foto La pantera veneta Che ha portato L'Italia Volli In finale Nel taglio Sempre medio Vediamo Il titolo Il sindaco Promigranti Bufera Su Fazio Invita Lucano In Rai Celebrato In prima serata Scoppia L'Ira Della Lega Vediamo Vedere Sempre Riguardo All'immigrazione Nuovo Sconfinamento La Francia Ci scarica Altri Candestini Macron Sotto Accusa Vogliamo Adesso Spostarci Sul quotidiano Nazionale Del mattino La prima pagina Salvini Di Maglio Ai ferri corti Manovra Declassata L'Italia Condono Duro scambio Di accuse Hai scritto Tu il decreto No è falso Ma la sornatoria Tornamini Stop E anche per Ischia Mogdi Taglia E Rating Il caso Reddito Scampia Già in coda Il CAF Li abbiamo votati Ci tocca Subito Grillini Divisi Movimento 5 Stelle Gli ortodossi Luigi Cambirotta Vogliamo Adesso Vedere Nell'articolo Di Spalla Riparte Il campionato A Udine Senza Insigne I consigli Di Natale Mertens Intoccabile L'esperienza Di Accellotti Nella settimana Decisiva Che giocherà Il Napoli Nel centro pagina Vediamo Una foto Un reportage Paestum La grande bellezza Circondata Da abusi Edilizi E discariche A cielo aperto L'inchiesta Di Salerno Nell'articolo Di Spalla Eboli Il dottor Morte Ha ucciso Un 28enne Malato Terminale Iniettata Dose Letale Accusato Di omicidio Intercettazioni Sciocche Sospetti Su altri Casi Al San Paolo Di Napoli Altro articolo Medico Muore Di tubercolosi In corsia Fino a due Mesi fa Vogliamo Adesso Leggere La prima pagina Del quotidiano Il manifesto Il gatto E la volpe Titolo di apertura Del manifesto Conte leggeva Di Maio Scriveva Non sono un bugiardo Io scrivevo Le linee generali Il botte Risposta Tra i due vicepresidenti Alimenta Lo scontro Sul condono Oggi Nel consiglio Dei ministri Si tenta La mediazione E la carmessa Pentestellata Di Roma Teme la rabbia Dei no TAP Vediamo Nel taglio Medio Panico In mattinata Poi il calo Da agosto 17 miliardi Di titoli Ceduti Da investitori esteri Spread E vendite Siamo a rischio Vogliamo vedere Nel taglio Basso PD Ma neanche troppo Leopolda Stile Anni 50 Renzi È già Modernatario Riato Vogliamo adesso Spostarci Sul quotidiano Nazionale Titolo di apertura Come fare affari Con questo spread Il differenziale Supera i 340 punti Poi chiude A 301 Le valute Le valute straniere Possono essere Una soluzione Ma non l'unica I titoli italiani A scadenza breve Restano un buon investimento Bene pure I bonde Delle aziende Che però Offrono rendimenti Più bassi Occhio A banche Assicurazioni I consigli Degli esperti Ancora Scintille Tra Lega E Movimento 5 Stelle Oggi Il consiglio Dei ministri Correggerà La manovra Nella foto Del centro pagina Vediamo La mamma di Noemi Contro il rito abbreviato L'assassina di mia figlia Tra pochi anni E' fuori Cambiate la legge Nell'articolo di spalla Del lato destro L'ex enunzio Dei Stati Uniti Vicanò replica A O O Eluette Il problema della chiesa E' la lobby gay Andiamo Vedere Nella Taglio basso Esclusi dalla mensa Migliaia di bimbi Ma sono italiani Nessuno si indigna Metà degli alunni Non pranzo a scuola E anche il Tar Ha dato ragione Ai comuni Nel taglio basso Sulla trasmissione Di Fazio Presa in giro Continua Anche ieri Sconfinamenti E i francesi Fazio Porta in Rai Il sindaco Di Riace Il sole 24 ore La prima pagina Quodidiano economico Nazionale Modi De classe L'Italia Fondi in fuga Capitali In cerca Di sicurezza Oltre frontiera Nell'articolo di spalla L'economia cinese Cresce a ritmo Più lento Dal 2009 Vediamo a vedere Nel taglio basso Riciclaggio Reddi di esteri Stop Al condono Celnex Patto tra soci Benetton Abu Dabijic L'accordo Prevede Il blocco Delle quote Per quattro anni Poi la verifica Il quotidiano La stampa Artitolo Di apertura Condono Compromesso A tempo I veleni Non si fermano Salvini Di Maglio Sapeva Non passo Per scemo La replica Non sono bugiardo Carta di riserva Di Movimento 5 Stelle Governo Figo Sostenuto Da sinistra Martina L'esecutivo Aiuta Gli spelugolatori Vogliamo Spostarci Nel taglio Basso Savona Me l'aspettavo Il fit Prospettive negative Per le banche italiane Debito Taglia I rating Dell'Italia Il quotidiano Il tempo Il quotidiano Il tempo I sorci Giallo Verdi Lite Furiosa Sul condono Salvini Non sono scemo Ora provo Ora ogni provvedimento È a rischio Il secolo Il secolo D'Italia Titolo Di apertura Arrivederci Arrivederci A Roma Salvini Le polemiche Aiutano solo Gli avversari Del governo I burocrati europei E gli spelugolatori Basta litigi Basta litigi Lavoriamo E risolviamo Gli eventuali Senza litigare Vediamo infatti La foto Di Salvini Poi Nel taglio Basso In primo piano Dice Di Maglio Replica A Salvini Non fare il fenomeno E invece Meloni Ladro rumeno Graziato Meloni È una follia La RAI Foa Spiazzi Buonissimi Nessun razzismo Da noi L'avvenire L'avvenire Condono che brucia Alta tensione Salvini Di Maglio Sapeva tutto La replica Non sono un bugiardo Riccardo Fraccaro Mai più cose simili Si rispetti La regola Antonio Tagliani Invece Noi pronti al voto Matteo Ora decida E il caso Istituzioni Ferme Adozioni estere Verso la riforma Per un rilancio La foto Portiamo sempre Dell'Italia del Voli L'Italia rosa Che vince Con l'unico Muro buono Vogliamo Spostarci Adesso Sulle prime Pagine Dei quotidiani Sportivi Nazionali La prima pagina Della Gazzetta Dello sport Si parla Dell'Italia Del Voli Giochiamo Con loro Capolavoro Mondiale Delle Azzure Del Voli Super Egonu Schiacciata La Cina In finale C'è la Serbia Infatti oggi ci sarà La partita E nel taglio Basso Vediamo Il derby Tra Inter e Mila Che domani sera Allo stadio Meazza In 78 mila Allo stadio Spalletti Festeggia 500 giorni Di inter Gattuso Cerca il trampolino Col Milan Materazzi E Massaro Leggono la sfida Nel Articolo di spalla Lato sinistro Anticipo Con la spalla Emanolas La Roma Roma mia Hai bisogno Di vincere In Napoli Senza insigne Spazio Ammertens E Milik Nel taglio Medio Dell'articolo Di spalla Del lato destro Si parla di sci Il 27 in Austria Il via Della Coppa Tego La Coggia Si fa male In allenamento Poi La Formula 1 Weltel Un altro pasticcio Perde tre posti Sulla griglia Vogliamo adesso Spostare Sulla prima pagina Del Corriere Dello Sport Si parla Di Juve La Juve riparte Contro Piatek Pensando Allo United Prove Di Mu Ore 18 Allegri Cerca L'undicesima Vittoria E avverte Dopo la sosta È più difficile Martedì C'è il Manchester E rischia Grosto Contro Sarri E Sull'articolo Di spalla Di sinistra Le ragazze Del volley Alle 12.40 Sfida Alla Serbia Su Rai 2 Miss Italia Italia del mondo Favoloso 3 a 2 Alla Cina Dopo 16 anni Lottiamo Per il titolo Nel taglio basso Leggiamo Napoli Sbarella Ancellotti Prenota Barella Ideale Per noi Più bravo Di me Insigne Stop Salta Udine Roma Assalto Alla spalla E poi Vediamo Del motociclismo Che domani Ci sarà La sveglia Perché inizierà Alle ore 7 E poi anche La formula 1 Con Carreggeranno Alle ore Dalle 23 La griglia Su Sky Vogliamo Adesso Passare Al quotidiano Sportivo Tutto Sport Proprio Con Bellissimo Titolo Di apertura Meravigliose L'Italia Impazzisce Per le azzure Dopo la fantastica Vittoria sulla Cina Oggi contendono Il mondiale Alla Serbia Infatti Siamo tutti Ottimisti Che Le ragazze Vincono E Juve Piatec Esame Di CRC Ore 18 C'è Juve Genova Occhi su Ronaldo Sul bomber Che piace A tutti Allegri Campionato Champions Proviamo a Scattare Il Toro Missione Belotti L'ordine Di Mazzari Aiutare Il Gallo A ritrovarsi E servirlo Di più L'Inter Domani Intermila Intervista Prandelli Nel derby Della verità Chi vince Vola Vogliamo Adesso Leggere L'ultimo Articolo Poi faremo Un break Pubblicitalio Il break Il presidente Corrado Pisa Grandi Progetti Ritorno Inà E un'arena Di sogno Da sogno Adesso Vogliamo Fermarci Per un break Pubblicitario Prima però Vogliamo Vedere Le previsioni Medio Per oggi E poi Dopo la pubblicità Riprenderemo Con la seconda parte Di mattino 6 Andiamo a leggere Le pagine interne Dei quotidiani regionali Bentornati Alla seconda parte Di mattino 6 Adesso Vogliamo Passare Alla lettura Delle pagine Interne Dei quotidiani Regionali Della regione Abruzzo Vogliamo Subito Iniziare Col quotidiano Il centro Verso Le regionali Centrodestra Sararoma A scegliere Il candidato Fratelli D'Italia Abruzzo Ha dato a Meloni I nomi di Morra Foschi E Marsiglio La prossima settimana Il vertice Con Forza Italia E Lega Per la scelta Finale Vogliamo Adesso Passare Alla situazione Della 24 E a 25 Sicurezza Autostrade A 24 E a 25 Traffico limitato Entro ottobre Strada Dei parchi Chiede al ministero L'accesso agli atti Dove sono finiti I documenti E le prove tecniche Da noi consegnati Vogliamo adesso Vedere Andando avanti Sempre riguardo L'Abruzzo Operazione Galliope Un progetto Per salvare Le spiagge Abruzzesi Interventi di valorizzazione Al Cerrano A ripari di Giobba Punta Derci Berardinetti Riapriremo Col ministero Il dossier Del parco Della costa Teatina Barriere Barriere architettoniche Negli edifici privati Barriere architettoniche 2 milioni Per abbatterle Vogliamo Adesso spostarci Cambiando Argomento Giulietti Chi vuole chiudere i giornali Attacca la Costituzione Il presidente nazionale Del sindacato E giornalisti Nessuno può impedire Ai cronisti Di fare domande Scomode ai politici Vogliamo adesso Spostarci sulla cronaca Di Pescara La fusione Dei tre comuni Nuova Pescara Via Libera Da tre consigli Capoluogo Adriatico Montesilvane Spoltore Riuniti Insieme Per la prima volta Per far nascere Una città Più grande Vediamo infatti Vedere I tre consigli Riuniti Adesso Sempre sulla cronaca Di Pescara Stadio Acqua Vietata C'è la legionella La decisione del comune A scopo precauzionale Dopo le analisi Dell'Arta La ASL Ha imposto Sanificazione E clorarizzazione Domani Articolo La cronaca Sempre di Pescara C'è la maratona Strade chiuse Niente sosta Centro e lungomare Vietati Dalle 6 La Riviera Sud Riapre alle 11 La Nord Alle 15 Alla gara Parteciperanno 2000 atleti Partenze Arrivi A Piazza Salotto Vediamo Vedere Nel taglio Basso Se Raiocco Io vittima Di attacchi politici Il presidente Della società Che gestisce Le Naiati Finito Sott'inchiesta Si difende Spiegherò Tutto Al pubblico Ministero Il degrado In città La rivolta Dei commercianti Via i disperati Dal centro I rappresentanti Dell'associazione Viviamo Pescara In commissione Controllo E garanzia Del comune Le strade Sono invase Da sbandati Di giorno E di notte Abbiamo paura E nessuno Interviene Sempre In merito A Pescara Per un giorno Dice Gli studenti Aiutano a pulire La città Iniziativa Di lega ambiente Sempre In merito A Pescara Nel taglio Basso Topi in centro Filmati e postati Sui social Le proteste Delle attività Commerciali Di Corso Umberto Per le condizioni Delle strade Pessima Immagine Della città Un altro Articolo Di cronaca Sempre Su Pescara Schiave Del sesso Alla fiaccolata Le lacrime Di glori Testimonianza Da brividi Al corteo Della comunità Dorbenzi Sono stata Venduta Da mio padre L'ho maledetto Pescara Montesilvano E Francaville 15 ragazze Salvate In 4 anni Passiamo adesso Alla cronaca Di Montesilvano Multe fino a 300 euro Lotta Agli incivili Cittadini Sentinelle Con Whatsapp Potrà segnalare L'incivile Nell'atto Di abbandonare I rifiuti Indicando Il luogo Per mezzo Del servizio Di geolocalizzazione Collegato All'app Al numero 345 5938 295 La segnalazione La segnalazione Verrà raccolta Da Formula Ambiente Sapi Che provvederanno Poi a ripulire L'area E a inoltrare La comunicazione Alla polizia locale Per eseguire Tutti gli accertamenti Necessari Dopo la campagna Abbandona Le cattive abitudini Con grandi manifesti Per tutta la città L'inaugurazione Dell'isola ecologica Attiva 24 ore su 24 In via Aldomoro Oltre al centro Di raccolta Di via In Ora è attivo Anche questo strumento Digitale Alla portata Di tutti coloro Che possiedono Uno smartphone Abbiamo superato Il 32% Di raccolta Differenziata E stiamo Molto attivi Per migliorare Il decoro Del territorio Comunale Quest'estate Abbiamo collaborato Mettendo Sull'isola Pedonale Che sarà aperta In via Amoro Un Velocipede Per Lo spazzamento Manuale Anche nelle ore Notturne Abbiamo aperto Un centro Di raccolta Funziona Sempre L'isola Ecologica In via Austria Dove il cittadino Può conferire In maniera Differenziata I rifiuti E adesso Siamo qui A proporre Un nuovo servizio Per il futuro C'è un nuovo centro Di raccolta Che il comune Ha già individuato Come area Su a Montsilvano Colle E confidiamo Che nei primi Messi dell'anno Possa essere inaugurato Dopo Stiamo studiando Anche Di estendere La raccolta Porta a porta Lungo la via Vestina Dal confine Con cappelle Sul tavo Fino all'incrocio Con via Togliatti Vogliamo sempre Continuare Con la cronaca Di Montsilvano Auditorium Chiuso Cozzi promette Sarà recuperato La struttura Di Montsilvano Colle Interviene L'assessore E il consigliere Orsini Attacca Quel teatro Ha enormi Lacune Stiamo Lo stiamo Adesso sulla cronaca Della provincia di Francavilla Operaglio minaccia di buttarsi dal comune Reclamava 720 euro dalla ditta che lavora per l'amministrazione Il titolare lo denuncio Bonifici partiti regolarmente Vediamo Adesso ci spostiamo Nella zona di Penne Valtavo Popoli Val Pescara Cambi e novità All'ospedale Salta lo stato di agitazione L'ospedale di Penne I lavori di ristrutturazione Ufficio e CUP Saranno ultimati entro l'anno De Petris Nominato responsabile del pronto soccorso Palmieri A ortopedia La provincia di Chieti Stavolta ci spostiamo nell'area della provincia di Chieti Manifestazione nel caos Feste salta anche il trekking urbano Dopo le accuse della forza dei diritti Altre critiche al comune che non paga 300 euro di adesione al circuito nazionale Di primo dice ma tornerà a Capodanno in piazza Il sindaco rassicura Organizzeremo eventi che portano gente in città Sempre nella provincia di Chieti Della zona di Vasto Benzinaio rapinato All'apertura della cassa Bandito incappucciato Minaccia con la pistola alla testa Il titolare della stazione Agip di Bonanotte Colpo da 600 euro Cure dentali per disabili E pazienti a rischio A Lanciano L'odontatria del Renzetti È l'unico centro in Abruzzo Ad eseguire i trattamenti in anestesia Provincia di Teramo Articolo Sesso con l'allieva a dodicenne Condannato istruttore sportivo Tre anni e sei mesi A un trentenne teramano Accusato di aver avuto un rapporto Con la ragazza Tragedia ad Atri Avvocato di 43 anni Muori strada Era a passeggio Con un amico Quando si è accasciato a terra Rudere I rudere di Silvi Salveremo il villaggio Del fanciullo Il sindaco Scordella Illustra il piano di recupero Studiato dall'amministrazione Per risanare l'aria E riutilizzare gli stabili L'Aquila Licenziamenti nulli Intex ci riassuma Ricorso in tribunale Di sette ex ricercatori Già risarciti per mobbing E la portavoce Dimenticati da politica e sindacati Vogliamo andare Sempre su Adesso ci vogliamo spostare Sulle pagine interne Del quotidiano Il messaggero D'Abruzzo Si parte con I miloni Che si sgretolano Autostrade Toto Sfida Doninelli Dateci gli atti Il concessionario Sostiene che A 24 A 25 Sono sicure Vogliamo sapere Dove sono finiti I nostri documenti Pescara Nuova Pescara Matrimonio senza amore Prima seduta Dell'Assemblea Con i tre consigli comunali Tra scetticismo Sulla legge E malcelate Resistenze municipali Da Spoltore E Montesilvano E dal fronte Di centrodestra Forte insoddisfazione Per la legge Attuativa Del referendum Andiamo Andare avanti Sulla zona di Pescara Calce e pugna I passanti E poliziotti Evade dai domiciliari Per dare vita A una maxilista Arrestato con fatica Come vediamo Nella foto Le scene Da un quartiere violento Scontro tra Rom E nigeriani Nell'area Metropolitana Della provincia Di Pescara Gli orti Che curano Solitudine Vecchiaia 50 appezzamenti Di terreno Assegnati Ad altrettanti Pensionati Dalla Ollus Domenico Allegrino Ieri la cerimonia Vengo Qui ogni giorno Da sette anni Racconta Aquilino Il decano Degano degli ortolani Così ho vinto L'assenza Di mia moglie Nella zona Della Della provincia Dell'Aquila Pezzo pane Noi abbandonati Il governo Ci restituisca I soldi I finanziamenti Per la sicurezza Delle autostrade Non devono essere presi Dalle tasche Degli abruzzesi Bocciati Gli emendamenti Sulla ricostruzione Senza che qualcuno Abbia spiegato Il motivo Legnini Modello L'Aquila Ok Va sostenuto Cambiamo pagina Sulla zona Dell'Aquila Scuola Sgomberata Ma il sisma È finto La grande esercitazione Vardirex Di alpini E protezione civile Simulati Un terremoto Un incendio Nell'abitato Di Coppito Collaudata La sinergia Dei vari Organi Di soccorso Un intervento Anche per salvare Escursionisti In parete Vediamo adesso Spostarci Nella comune Di Avezzano Della provincia Dell'Aquila Mercato I carabinieri In comune Il sindaco De Angelis È sentito A lungo Sulla vicenda Dal maggiore Comandè I commercianti Siano liberi Ci sarebbe Chi rema Contro lo spostamento A Borgo Pineta Si demano Inoltre Prevaricazioni Nel corso Del consiglio Baldisangro Piani di conciliazione Progetti A favore Delle tonne Chieti Provincia Di Chieti Megalò Ecco le strisce Blu Operai Al lavoro Anche oggi Sopra Il luogo Di festa Di teat De servizi Stiamo preparando L'aria Al meglio Spunta Proposta La stazione Ecologica Che rilascia Il ticket Per avere Uno sconto Sempre a Chieti A 13 anni Ruba nei negozi Insieme alla zia Bloccati 10 anni Del piccolo teatro Dello Scalo Con muambe Mumble Mumble Di Emanuele Salce Lanciano Dentista Per sila Per disabili E pazienti A rischio Il dramma Di molte famiglie Come è stato definito Trova risposta A odontodiatria Dell'ospedale Di Lanciano Il reparto Del primario Castrignano Apre ai malati Oncologici E diabetici Che devono Sottoporsi A trattamenti In anestesia Teramo Scatta Lo sgombro Forzato Ma era il proprietario Di casa La ASDL Zona di Giulianova Avvia la Croce Rossa I suoi mezzi Due lettere Dell'azienda Sanitaria Spedita All'associazione Deve lasciare La sede Dice Ricavata Due anni fa Dell'ec Sospizio Marino Adesso Spostarci Al quotidiano La città Della provincia Di Teramo Anche qui All'interno Si parla Di viadotti Sicuri Ignorati Test Della strada Dei parchi Dopo l'ultimatum Al ministro Toninelli Il gestore Dell'autostrada Chiede anche L'accesso Saiatti Del ministero Delle infrastrutture Dei trasporti Tire Pullman Dice Diviedo Di sorpasso Distanza minima 50 metri Diviedo Di fermata In emergenza Spostarci Sempre A Teramo Il risolto Il caso Dei 191 Precari Della ASDL Parliamo di sanità Contratti a tempo Determinato Rinnovati Fino alla fine Dell'anno Nonostante Lo sforamento Del tetto Di spesa Rimborzopoli Caporale Si difende In aula L'ex Direttore Dell'IZ Di Teramo Davanti ai giudici Mai percepito Doppi rimborsi Per le missioni All'estero Muore Suicida Sempre a Teramo Suicida Dopo il suicidio Del fratello Ragazza Di 37 anni Si lascia cadere Dalla manzarda San Nicolò Un mese E mezzo Fa la tragedia Del familiare 25enne Andiamo sempre spostare Apri il capitolo Teramano Di BNI La rete di professionisti E imprenditori Inaugura Il quarto Gruppo In Abruzzo Sicurezza Riattivato Il poliziotto Di quartiere Meno morti Sul lavoro Alla formazione INAIL E EFSE Sarebbe l'ente parapetico Territoriale Unificato Per la sicurezza Per l'industria E l'edilizia Di Teramo Hanno presentato I risultati Dei corsi Per i coordinatori Della sicurezza L'ITS agroalimentare Sempre a Teramo Alla sfida Dell'internalizzazione Presentate i risultati Del progetto europeo Con presenti Partner italiani Spagnoli Lettoni E slovacchi Consegne E raccomandate Anche nel pomeriggio Parte da lunedì Nella provincia Di Teramo Il servizio Che garantirà Il recapito Anche nei fine Settimana Vogliamo adesso Passare alla politica Endorsement Compatto Del PD A D'Alonzo I ginobliani In prima fila Per la candidatura Del sindaco Di Crogno Leto Ieri mancava Solo Mariani E a riguardo Anche qui Vogliamo vedere Un servizio Che è stato preparato Per noi Dalla redazione Del TG6 Prego Il candidato Unico Del centro Sinistra Alla presidenza Della provincia Di Teramo Giuseppe D'Alonzo Sindaco Di Crognaleto Ha presentato Il suo programma Linee guida Che toccano I punti più importanti Su cui l'ente Provincia È competente Viabilità Scuole Territorio Ambiente E Sanità Il Partito Democratico Deramano Schierato In tutte le sue Componenti Ha voluto dare Oggi Prova di compattezza E unità Su di lui Il mio programma Spazia un po' Su tutte le Argomentazioni Quindi parliamo Della sanità Parliamo dell'acqua Parliamo della Messa in sicurezza Dell'acqua E quindi mi riferisco Al sistema Del laboratorio Ed è ovvio Che poi la maggiore Attenzione Va prestata Alla viabilità Quando si parla Di provincia Il primo pensiero Viene appunto Alla strada L'efficienza La sicurezza E lì si apre un mondo Che non è solo Il cosiddetto asfalto Ma è la prevenzione Al dissesto idrogeologico E la manutenzione Nei momenti più brutti Dell'inverno Cioè l'innevamento Il digelo Insomma Mettere in sicurezza Il cittadino Perché viabilità Significa mobilità E quindi Fruibilità Del territorio Il futuro presidente Della provincia di Teramo Avrà a disposizione Un bel tesoretto Da spendere 85 milioni Per completare La Teramo Mare Con lo snodo Di Giulianova Roseto E oltre 60 milioni di euro Per l'adeguamento sismico Delle scuole La provincia infatti È proprietaria Di uno dei patrimoni Scolastici Più importanti D'Abruzzo 26 istituti Suddivisi in sette comuni Teramo Giulianova Roseto Atri Nereto Sant'Egidio E Castelli Si pensa al sindaco Di Cronialeto Si pensa a un futuro presidente Con un occhio più attento Alla montagna Da sindaco del comune di Cronialeto Difeso con i denti Il mio campanile Anche uscendo fuori A tutela della montagna Da futuro presidente Che spero sarò Farò il presidente Della provincia Coniugando i due aspetti E cioè la costa Noi abbiamo un magnifico Litorale adriatico Che va Obbligatoriamente Coniugato con l'entroterra E quindi a partire Dal porticciolo di Roseto A partire Dall'otto zero E quindi Tornando di nuovo Sulla viabilità E per poi toccare Gli impianti Di Prati di Divo E Prato Selva Sarà un impegno Di tutto il territorio provinciale Infine Alle domande Se il centro-sinistra Compatto Voterà per D'Alonso Senza franchi tiratori Il segretario del PD Teramano Gabriele Minosse Si è detto tranquillo Fiducioso E certo Di festeggiare A fine mese L'elezione Del sindaco Di Cronialeto Vogliamo adesso Spostarci All'università Di Teramo Ultime pergamene Per il rettore D'Amico Il magnifico Ha presieduto La cerimonia Del corso di laurea In comunicazione Per gli agenti Di commercio Vogliamo andare avanti Passiamo Viabilità Tutto a quattro corsie Bello ma impossibile L'idea per la superstrada Lanciata da Ginobl Cozza con i costi E gli spazi All'innesto Con Giulianova Vediamo infatti Qui un progetto Un'aerofotogrammetria Con il tracciamento Del progetto Vogliamo Adesso Spostarci Incendio Al cantiere Del ponte ciclopedonale A Roseto Degli Abruzzi Autogruva A fuoco Durante la notte Nei pressi Del Vomano I pompieri Scongiurano Altri danni Vogliamo Adesso Spostarci Allo sport Vediamo Adesso Si parla Dell'Italia Del volley Che oggi Alle 12.30 Ci sarà la diretta Su Rai E vediamo La finale Oggi la finale Contro la Serbia Con l'azzura Chiamata Ripetere L'exploit Vogliamo Adesso Spostarci Anche qui Riguardo Alla Juventus Allegri Fiuta Allo strappo Va a Juve E ora Di accelerare Vogliamo Adesso Passare Al Pescara Calcio Il Pescara Che ieri sera Ha fatto una bellissima partita Contro lo Spezia Vincendo 3 a 1 Il titolo Del centro Pescara Accelera Tris Tris Allo Spezia Primo successo esterno della capolista Mancusa e Monachello Doppietta Stendono lo Spezia Infatti Vediamo anche qui Notte di festa Pilon Dice Serie A Ci penseremo Quando sarà il momento Pilon gode la vittoria Ma voglia ancora umiltà A testa bassa Anche qui a riguardo Abbiamo un servizio Che è stato preparato Dalla nostra redazione Del TG6 Prego Pescara sempre più capolista E padrone del campionato Lo strameritato 3 a 1 Ottenuto al picco Di la Spezia Permette Biancazzurri Di mantenersi in vetta Ma soprattutto Di acquisire sicurezza E autostima In vista dei prossimi impegni Ed iniziare da quello Di sabato prossimo Allo stadio adriatico Con il Cittadella I tifosi sognano Ma è comunque giusto E importante Restare con i piedi per terra Con la consapevolezza Però di avere una squadra In grado Per quello che si è visto Fino ad oggi Di poter essere protagonista In questo campionato Senza gli infortunati Antonucci Capone Scogliamiglio Pilon ripropone L'undici Che aveva superato Il Benevento I Liguri di Pasquale Marino Privi di Orcherec Erlich e Mastinu Sono in campo Con lo stesso modulo Il 4-3-3 Al picco sono quasi 7 mila Gli spettatori presenti Con buona rappresentanza Biancazzurra Dirige Minielli Di Varese Pronti via Il Delfino Trova il vantaggio Al decimo c'è un angolo Con Mancuso Che in area salta Quasi indisturbato Mettendo di testa Alle spalle di Lamanna Festeggia Il giocatore Di proprietà della Juventus Sotto il settore Dei propri tifosi Per il bomber Biancazzurro E del torneo E la sesta rete Stagionale Al sedicesimo Proteste Liguri Per un contatto In area pescarese Fra Marras e Bidawi Con il giocatore Ligure Che termina a terra Ma con il fischietto Varesino Che lascia proseguire Al diciannovesimo Galabinov Dal limite Mette il pallone Sopra la traversa Gara che si gioca Su ritmi forsennati Con gli abruzzesi Che al ventunesimo Arrivano ad un passo Dal 2 a 0 Con Lamanna Che dice no a Macin Al ventitresimo Bartolomei Con un tiro cross Insidioso Dalla destra Chiama Vincenzo Fiorillo Alla deviazione In calcio d'angolo Passa qualche secondo E Gianni di testa Chiama invece Alla parata a terra L'estremo Biancazzurro Gara che resta aperta E godibile Con la squadra di Marino Che attacca a folate Da colla al trentatresimo In area Calcia alto Al trentaquattresimo Proteste ospiti Per un contatto In area spezzina Con Mancuso Che termina a terra E con Minelli Che lascia ancora proseguire Passa un minuto Il Monachello Fa 2 a 0 In area Della formazione di casa Dopo una buona azione Di Marras Fanno festa I Biancazzurri Che però al trentasettesimo Subiscono la rete Del 2 a 1 Con Galabinov Che di testa Sugli sviluppi Di un angolo Super Fiorillo Si rianimano Le aquile bianconere Che continuano a premere Fino all'intervallo Che si chiude però Sul 2 a 1 Per la formazione Di Giuseppe Pilon Nella ripresa Al terzo Subito aggressivi Padroni di casa Con un colpo di testa Di Galabinov Parato a terra Da Fiorillo Preme la formazione Di casa Con il Pescara Guardingo E che rischia Al nono Con Fiorillo Che dice no A Galabinov Il pressing Ligure Crea apprezzione In casa pescarese Anche se poi ci pensa Monachello Al tredicesimo A togliere le castagne Da fuoco Dopo una grande azione Sull'out di destra Di Marras E a segnare così La terza rete La seconda personale Con un tiro angolato Che non lascia scampo Alla manna Si esulta in curva nord Fra i 200 incopiabili Tifosi pescaresi Saliti in Liguria Per sostenere la squadra Sotto di due reti Spinge la squadra di casa Che dimostra Di avere una condizione fisica Più che buona Il Pescara un po' soffre Con i locali Che cercano di fare il massimo Trovando un fiorillo Però sempre attento Al trentasettesimo Pilon richiama in panchina Uno sfinito mancuso Per Crecco Pilon rinforza poi la difesa E spedisce sul terreno di gioco Per rotta Per Marras Tripudio Al tripice finischio finale Del signor Minelli di Varese Dei tifosi abruzzesi Presenti in curva A Pescara si sogna Ma il pensiero della squadra È già la gara di sabato prossimo Con il Cittadella Vogliamo adesso passare Al teramo calcio Il diavolo a Monza Il teramo trova Antonelli È pescarese Il direttore sportivo Di Berlusconi Il dirigente alla corte Del Cavaliere Il mio sogno Noi e i biancazzurri In Serie A Il dubbio di Renzo Vogliamo Spaslare del Giulianova Va a Forlino In emergenza Lavezzano recupera Crasse Puglielli Per sfidare La capolista Il Francavilla Con Spadaro Tra i pali E Cicerello Pronti in attacco Vogliamo adesso Spostarci alle pagine sportive Del messaggero Abbiamo visto E parlato anche qui Grande Pescara In fuga Il Delfine Spugna La Spezia Con i gol di Mancusa E doppietta di Monachello Il primato È consolidato Formidabile prestazione Fiorillo Evita la rete Del possibile pareggio Gara bellissima Fino alla fine E qui il Teramo De Grazia Maurizio ha funzionato L'autore del primo gol Contro il Fano Vogliamo anche qui Spostarci Sulle pagine sportive Sul quotidiano Il centro Sul quotidiano La città Della provincia di Teramo Teramo a corto di fiato Servano dei rimiedi Anche la gara di mercoledì Col Fano Ha evidenziato Una preparazione atletica Molto approssimativa Poi si parla Della serie D Anticipo per il Real Giulianova Oggi Al Morgarni Sfida A Forlì Vogliamo adesso Concludere Parlando anche Di motori Domani va in scena Il quarto slalom Del Gran Sasso Da quest'anno La manifestazione sportiva Di Montorio È gara agonistica Riconosciuta Da Aci E Aci Sport Ciò vogliamo Con questo Titolo Del Gran Premio Del Gran Sasso Concludere La nostra Rassegna stampa Di mattino 6 Vogliamo ricordarvi Che il mattino 6 Tornerà lunedì mattina 22 ottobre Alle ore 8 Invece oggi Ci saranno I telegiornali Che saranno svolti Sia alle ore 14 Alle ore 19 E alle ore 23 Io vi ringrazio Per la vostra attenzione Per averci seguito E vi auguro Buona giornata Ciao a tutti Grazie a tutti